La mente è sempre al centro, al cuore, dello spazio e del tempo. Lo spazio ha un nord, un sud, un est, un ovest, quindi un luogo, una locazione, mentre il tempo ha un passato, un presente e un futuro. Sono schemi di presentazione e il modo in cui le energie si manifestano. L'Italia è al nord dell'Africa e al sud della Svizzera. Sono posizioni relative, registrate sulla mappa in base a entità astratte come la Svizzera. Non possiamo andare lì in Svizzera. Attraversiamo il confine in Svizzero per entrarci. Possiamo sì dire siamo in Svizzera, ma i piedi occupano soltanto lo spazio, una piccola parte della terra. Ci sono molte altre parti della Svizzera che noi non tocchiamo. Pensiamo che la Svizzera sia un luogo definito, ma in realtà si tratta di un concetto. è un titolo convenzionale che descrive luoghi particolari. Lo stesso vale anche per il passato e per il futuro. Sono solo costrutti che non potete visitare. Non esistono da nessuna parte. Ma quando risiedete in un concetto è come se voi foste là. E proprio perché ci affidiamo alla certezza generata dai concetti perdiamo il sapore fresco dei fenomeni. E' qualcosa che possiamo indagare ripetutamente. Il luogo è qualcosa di immediato che allo stesso tempo non afferrabile. e anche un concetto vuoto. Quindi domani, se tutto andrà bene, tornerò a Londra. Poi all'aeroporto prenderò un treno che mi porterà a Londra. Forse mi porterà alla stazione di Paddington. La stazione di Paddington è molto grande. Quindi mi porterà ad un binario. Qual è quel binario? Come sarà quel binario? Nessuno lo sa in questo mondo. Nessuno lo sa in questo mondo. Perché non sappiamo chi salirà sul treno all'aeroporto. Il treno arriva alla stazione. Il treno arriva alla stazione, la gente comincia ad uscire. E lì sul binario si creeranno schemi di movimento, forme di movimento. E' quello che io avrò. Un'esperienza impermanente e imprevedibile. Al di là della concettualizzazione. Tanti fattori accadranno tutti allo stesso tempo. Tutti allo stesso momento. E anche la mia esperienza sarà molto frammentata. Perché io sono all'antica. Io apro la borsa sulle spalle. Mentre adesso molta gente preferisce che il bagaglio venga trasportato su delle rotelle. E quindi proprio perché alle loro spalle loro non interessa cosa faccia il bagaglio. Quindi io cercherò di camminare evitando di inciampare sul loro bagaglio. Quindi io non potrò neanche vedere la stazione o il minario ma semplicemente questo bagaglio. Benvenuti a Londra. Non è da nessuna parte. E' sempre esperienza in transizione transitoria che svanisce. Quindi entrare nei sensi e vivere nell'immediatezza di ciò che accade. Se necessario potete applicarvi dei concetti. Ma se voi vi abbandonate semplicemente i concetti. i sensi muoiono. Perché se sappiamo non abbiamo bisogno di osservare. Ma cos'è che sappiamo? Tutto ciò che abbiamo è questo momento. E nessuno può sapere come sarà questo momento. Anche se le previsioni del tempo in televisione diranno che ci sarà più neve. A causa della forma delle colline non sappiamo se la neve soffierà verso una direzione o verso l'altra. La neve è un'abstrazione. Quello che invece vediamo è questa particolare neve in questo particolare momento. Per questo si parla nel buddismo di risveglio. Perché quando vi fidate e vi affidate ai concetti è una specie di sonno. Oh, sono tornato a Londra. Come se questo significasse qualcosa. Ma Londra non vuol dire che io so chi andrò a incontrare sulla strada dalla metrò fino a casa. Se il cane dei vicini abbaglierà meno. E' quello che abbiamo, che avremo. Quello che abbiamo però non lo possiamo avere. E' un dono. La vita è proprio ricevere un dono che non possiamo prendere, non possiamo afferrare. Non c'è niente che possiamo portare via. Il paradosso è che ciò che ci portiamo via è il karma. E il karma dipende da concetti. Come abbiamo visto ieri, il primo stadio del karma è l'ignoranza, cioè pensare che il soggetto e l'oggetto siano reali. E poi il secondo stadio invece del karma è l'intenzione che è concettualmente compresa. E' un'idea. E io mi muovo verso il mondo con quell'idea. Io ti ruberò il denaro. Quindi ho questa idea, questa intenzione nella mia mente. E l'idea organizzerà ciò che io andrò a fare. Il potere del karma è sviluppato perché esiste nell'eco-chamber dei concetti. Il potere del karma è generato dai concetti che operano dentro l'eco-chamber dei concetti. dei concetti che stanno, sono in essere, stanno girando, lavorando nell'eco, all'interno di questo eco. Ma il momento presente è fresco. Poi il testo dice, nel verso 15, sin dal principio la nostra consapevolezza è stata libera di artifici. Quindi è priva di ostacoli. E' qui, immediatamente. Per esempio, mentre eravamo seduti c'era un rumore. Il rumore era là. Cos'è che stava facendo quel rumore? Forse è comparso un pensiero nella mente. Forse qualcuno sta pulendo la strada. Com'è che lo stanno facendo? Siccome non è chiaro il movimento del concetto che sta cercando di spiegare la cosa, si muove. Ma il senso, il suono era immediato. Così, nello specchio, il riflesso è immediato quando ci si specchia. Il specchio non ha scelta. Vedrò tutto, metà soltanto. Manifesta. Quindi arriva il suono. E' ciò che è, che si presenta. L'ascolto del rumore come rumore. E' vibrazione. Ha una qualità sul corpo leggermente energizzante. Ma non ha un suo gancio. Non puoi afferrarlo. Un altro. Questo burro. Quindi diciamo, qualcuno sta spazzando via la neve. Quindi è come se mettessimo un gancio, attaccassimo una maniglia a quel suono, a quel rumore. Ecco, adesso possiamo afferrare il rumore. Oh, bene, qualcuno sta spazzando via la neve. E il pensiero comincia a dire, su, su, amico, vieni da me. Ecco, adesso la storia è spazzata, non mi devo preoccupare. Questa è l'energia della mente che comincia ad avere degli ecchi. La base è stato il rumore che però è passato. Ma noi ci troviamo in questo labirinto di andare e venire della vibrazione. E poi continua dicendo, quando ciò viene sperimentato, quando la mente si manifesta, questa freschezza giovane nella consapevolezza viene rilasciata dal suo contenitore. e tu puoi vedere il tuo volto, che è il dharmakaya o la mente del Buddha del Samantabhadra o il Samantabhadra. Se, per esempio, avete una piccola candela, ci mettete sopra una coppa. Per un po' la candela lucerà. Ma voi non vedrete la candela. Sembrerà buio. Ma la luce è lì. È proprio il simbolo del ristello. Non è che era buio, che poi a un certo punto è arrivata la luce da qualche altra parte. La luce della mente è sempre stata, senza consapevolezza non ci sarebbe vita. Ma sei coperta dalle nostre fascinazioni con tutti i contenuti della mente e le nostre elaborazioni creative. Ecco, adesso c'è un rumore. Ma sappiamo cos'è. Quindi il rumore in sé non ha la possibilità di essere un ruggito perché subito non può essere crudo. Dobbiamo subito cucinarlo, cuocerlo. Quindi lo prepariamo con tutti gli ingredienti che abbiamo nella mente. Cioè mi piace, non mi piace. Mi suscita speranze, mi suscita paure. E in questo modo quella luce naturale, la prima luce viene assolutamente ignorata. perché noi siamo però affascinati dalla copertura che cerchiamo di trasformare in luce aggiungendo un pensiero su pensiero su pensiero per dargli un senso che ci possa far comprendere. Nu�! Hi! Still alive! Hi! 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 I'm a very bad listener. Grazie a tutti. Quindi cos'è che sta dicendo? Semplicemente che di qualunque cosa voi abbiate bisogno ce l'avete già. Ma se noi non ci prendiamo cura e non permettiamo quello che c'è già, non lo permettiamo? Andiamo a cercare altrove ciò che è qui già. Ci sono tanti esempi a questo proposito, come quando il pastore, l'agricoltore, va alla ricerca della mucca che in realtà è già nella stalla. Oppure l'esempio di questa lampa di luce che è già all'interno di questa coppa. E quella coppa lì è fatta di pensiero, pensieri. E il pensiero arriva proprio dalla luce. Però noi non vediamo la luce. Perché vediamo il pensiero che ha fatto il contenitore che è stato fatto dalla luce. Questa non è solo una piccola stupidaggine, una grandissima stupidaggine. Porteremo pace nel Medio Oriente con i bombardamenti. E la gente ci sarà anche grata. Grazie per la distruzione. Forse possiamo fare lo stesso e dire, il tuo paese distruggere anche la tua. Sono proprio dei modi basici di comprendere, di avere delle comprensioni. Se fraintendete il problema, la soluzione a cui giungete è sicuramente e probabilmente sarà sbagliata. Quando eravate a scuola e dovete fare i compiti scritti, l'insegnatore diceva sempre, leggete le domande e rileggete le domande. Assicuratevi di aver compreso la domanda prima di dare una risposta. Questo veramente aiuta. Quindi noi desideriamo essere risvegliati. Secondo la tradizione, ciò che ci tiene intossicati sono le idee. Quindi, diciamo, forse allora questo vuol dire che abbiamo bisogno di idee migliori. Non bisogno di comprare altri libri buddhisti. Devo andare in pellegrinaggio in India. No, no, basta un libro piccolo, libro vicino. Non cercate l'illuminazione nelle idee. Perché l'idea è la luna. E dov'è il sole? Se trovate il sole, lì trovate la fonte. La consapevolezza che è qui da sempre, dal principio, è questo il sole. Quindi cercate, trovate questa luce che è all'interno di questo contenitore. Adesso, nel verso 16, ci spiegherà come scoprire questo contenitore nella nostra mente. Com'è che l'ignoranza è sorta? Se non siete presenti come consapevolezza, nella consapevolezza, la consapevolezza sembra perdere la sua continuità e diventa stupidità. Questo non vuol dire che la luce diventa oscurità. Ma è che la creatività della stessa mente, che vuol dire tutti i fenomeni del mondo, sono manifestazioni della mente. Quindi conosciamo il loro status. Sono manifestazioni della mente. Così come quando guardiamo in uno specchio, qualunque cosa vediate, vediamo, è un riflesso. In alcuni riflessi possiamo dire, sì, è il mio viso. Altri riflessi rappresentano le pareti dietro di voi. Altri riflessi sono quadri sul muro. Quando cominciate a considerare le differenziazioni di questi patterns che si riflettono nello specchio come sostanziali, come possessori e detentori di sostanza, cominciate a trovare qualcosa su cui aggrapparvi. È un riflesso. Ma è il mio viso. Ma è il mio viso. I miei denti sembrano sporchi, devo andare dal dentista. Il fatto di prendere il riflesso come segno di qualche cosa e vuol dire che cominciamo a farci delle idee, delle immagini. Questo non è quello. Tutto è vacuo, è vuoto. E interconnesso. Ma quando iniziate a mettere nomi su ogni singola forma, e questi nomi diventano come una qualcosa che avvolge, una pellicola che avvolge ciò che noi definiamo e sostiene quindi questa proiezione di vedere un'essenza all'interno di quel fenomeno, comincia a sembrare qualcosa di autoesistente. Ecco, in questo momento la consapevolezza comincia a sganciarsi, ad essere disconnessa. Quindi io guardo nello specchio e dico, quello è il mio naso. Il naso è dentro un viso, nella faccia. Potrei dire, quello è il mio viso. E se sto guardando il mio viso, il riflesso del mio naso si trova all'interno del riflesso del mio viso. È parte del mio viso. Cos'è quella roba? È lì sul mio naso. Il resto del mio viso va nello scuono. E ora il mio naso diventa come quello di Pinocchio. C'è un grosso coluncolo. È proprio questa concentrazione della mia attenzione generata dalla mia preoccupazione. È come se separassi il mio naso dall'intero viso. Ovviamente il naso è nel mio viso. Ma questa attenzione selettiva sembra permettere a questa parte di essere separata, come se fosse una parte a parte rispetto a tutto il resto. Niente è stato diviso. Ma sembra come se lo fosse. Questa è proprio l'illusione dell'inganno della separazione. Sin dal principio soggetto e oggetto sono stati insieme. Io guardo te. Se i miei occhi sono aperti io sono sempre guardando qualcosa. E ciò che vedo è la mia esperienza. E nella mia esperienza il senso del mio corpo e la forma del tuo corpo sorgono nello stesso momento. Non sono identici ma non sono neanche separati. Le forme hanno diversi aspetti ma hanno tutti lo stesso campo di esperienza. Ma io ti sto guardando, ti sto osservando e io mi sto chiedendo a cosa stai pensando. E più penso a te più ci separiamo. Tu vivetti separato rispetto a me. Qualcosa ti sta accadendo dentro. Non so cosa sia. Ma tu non sei me. Adesso devo cercare di capire chi sei tu. Ma eccoci qui. Nell'immediatezza siamo tutti e due qui. Ma nell'identificazione con il mio pensiero in un certo senso è come se allontanassimo l'altro oppure lo avvicinassimo. Quindi questo è il movimento della mente che comincia a tagliare il mondo a pezzetti. Niente viene realmente tagliato ma è come se lo fosse. Questo è il senso, il significato dell'ignoranza. Questo è il primo livello dell'ignoranza chiamata ignoranza co-emergente. Le apparenze e l'avacuità, il vuoto vengono separate ingannevolmente, falsamente e vengono sperimentate come cose separate. Tutti i fenomeni sono vuoti. Vuol dire che non hanno un'essenza interna che li definisce. Ma quando cominciamo a dare un nome alle cose il nome inizia a separare o è come se separasse questa forma dal resto. E proprio a causa di questa separazione questa apparenza comincia ad essere sempre più reale. Perché tutte le parti, le diverse parti possano tornare insieme bisogna rilassare questa identificazione di separatezza. per esempio, ovviamente, è questo grande eroe Garibaldi. L'unificatore dell'Italia. Perché prima, le diverse parti dell'Italia avevano loro loro governi e molto forti tradizioni storiche e così via. Per queste parti d'Italia avevano i loro governi, erano molto diverse. Quindi con questa sorgere di questo moderno nazionalismo è nata l'idea dell'Italia. Quindi l'Italia è diventata come una grande pellicola che avvolge tutte queste parti diverse, così diverse. Fratelli, sorelle, perché stiamo litigando, stiamo combattendo? Siamo tutti italiani. Ci vuole del tempo perché questo abbia un significato. Bratelli e sorelle, siamo tutti europei. Tranne i giuranti, sì. Stanno galleggiando verso il mare. Ma quando potete vedere che quando ci sono queste piccole idee Germania, Francia, Italia, Italia... E' difficile lasciare andare questa definizione di Europa. Abbiamo i mattillini con l'accordo Schengen. Qualunque tipo di persona arriva, arriva di tutto. Ma perché vengono qui? Non preoccupatevi, sono europei. No, sono blanchi, ma colacchi sono europei. Ecco com'è, vediamo la mente funzionare per definizioni. E quando si ha una definizione del dentro, automaticamente c'è una definizione del fuori. Se abbiamo amici, vuol dire che abbiamo nemici. Questo accade col primo livello di ignoranza. Questo campo aperto di consapevolezza dove tutto è un riflesso. Dice ad essere diviso in paesi Germania, Francia, eccetera. E si possono fare sempre più piccole divisioni. Vincolati dai ceppi. Bound by the fetter of grasping subject and graspable object, the ignorance of re-identification develops. Vincolati, bound by... By the fetter. Fetter is like when they put, in the old days, between the legs of the prisoner, they put a chain with two. Cepi. 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 Vincolati dai ceppi del soggetto che afferra e dell'oggetto che viene afferrato. Il successivo livello di ignoranza sorge al secondo livello che è la reificazione. 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 Reificazione vuol dire proprio questo, trasformare qualcosa in un qualcosa. Una cosa. E anche l'oggettivazione vuol dire proprio che qualcosa è lì, là fuori. che esiste di per sé. Che esiste di per sé. Quindi il mondo comincia ad essere tagliato a pezzetti, in cose. di per sé. Per esempio. Per esempio. di per sé. Quando voi separate oggetti. C'è solo tanta roba. Cos'è? Cominciamo a organizzare. Cos'è? Cominciamo a organizzarla, a sistemarla. Come un puzzle. Tutti i pezzi sono caduti a terra. Qualcuno ha buttato via la scatola. Quindi non abbiamo neanche un'immagine di quello che rappresenta in quel puzzle. Quindi continuiamo a cercare di capire a cosa appartengono questi pezzetti. Quindi abbiamo questo sviluppo della nosologia, cioè questa capacità di categorizzare, di classificare. Per esempio nella Genesi, nel primo libro, si racconta che Dio cominciò a dare un nome alle cose. Che sono state raggruppate in varie famiglie, in diversi modi. Per esempio nella tradizione ebraica si è avuto ciò che era possibile mangiare, ciò che era vietato mangiare. Per esempio non potete mangiare i gamberi e le poste. Perché questo non è kosher. Dio ha stabilito che quello non fosse giusto. Non si doveva mangiare il maiale. Mentre altri amano sia i maiali che i ragoste. Quindi i fenomeni nel mondo sono raggruppati per categorie particolari. Alcuni sistemi di classificazione sono stati accettati comunemente come quello di Linneo. e altri invece dipendono da alcuni particolari interessi. E c'è tanta roba che va organizzata. Il metodo basico di classificazione è mi piace, non mi piace. Quello che fanno i bambini. Mettete loro qualcosa in bocca e lo sputano fuori. Mi piace, non mi piace. Voglio di più di quello che mi piace. Mi allontano da quello che non mi piace. Questo è un sistema organizzativo. Ovviamente in casa cercherete di avere ciò che vi piace e non ciò che non vi piace. Quindi ciò che viene descritto qui è un movimento dal non piacere che è nella relazione che è relazionale. Non mi piace questa cosa. Non mi piace questa cosa. Non mi piacciono gli spinaci. Questo non è sufficiente per la maggior parte dei bambini. Gli spinaci sono disgustosi. Orribili. Quindi viene messa, viene attribuita una qualità all'oggetto. I genitori dicono, ok, noi mangiamo gli spinaci e noi piacciono gli spinaci. se non volete mangiarli, non mangiateli. Ma non sono orribili. I bambini dicono, no, io non li mangio perché non mi piacciono. E questa è l'oggettivazione reificatoria. non riguarda me. Voi siete tutti pazzi. Io so la verità sugli spinaci perché sono orribili. Le mie sensazioni mi dicono la verità sul mondo. E in questo modo cominciamo a sentirci potenti. Perché altrimenti tutti gli altri mangiano gli spinaci. C'è qualcosa di vero con me perché non posso mangiare la spinaci. Se gli altri invece mangiano gli spinaci, allora c'è qualcosa che non va per me. E quindi mi sento piccolo e imbarazzato. E' una trasformazione incredibile. E' così che tutte le qualità vengono proiettate nel mondo. Però dimentichiamo di aver fatto una proiezione. E' quella che Freud chiama la repressione. C'è qualcosa che facciamo uscire dalla mente. E poi facciamo uscire dalla mente il fatto di aver fatto uscire dalla mente quella cosa lì. Così rimane una superficie liscia. Senza problemi. So come sono gli spinaci. Non mangerò mai spinaci. Non mi interessa cosa fanno gli altri. A me non piacciono gli spinaci e non li avrò nel mio piatto. Io sono qui, gli spinaci sono là. E questo è come cominciamo a sviluppare questa particolare forma della nostra vita. muovendoci verso le cose che ci piacciono e allontanandoci dalle cose che non ci piacciono. Quando siete piccoli i genitori possono forzarvi ad andare verso certe esperienze. Ma quando crescete potete evitare di avere questi incontri. E' una grande differenza. Questa rimane una verità per me. E non ho bisogno di incontrarla di nuovo. Non mi piace il jazz. Non ascolto mai il jazz. E siccome non ascolto mai il jazz non so se mi potrà piacere o meno. L'ultima volta che ho ascoltato il jazz sono stato trent'anni fa. Sicuramente sono cambiato. Ma non mi piace il jazz. Ecco come restringiamo la vita pian pianino. E noi abbiamo questa apparente chiarezza di una autodefinizione. Ma è marchiata e contraddistinta e contrassegnata da un'assenza di curiosità. perché abbiamo già tratto delle conclusioni rispetto a ciò che è buono e ciò che è cattivo. Quindi la mente diventa tenebrata proprio attraverso la certezza. Io so quello che mi piace e mi piace quello che so. E sono in un piccolo mondo, un piccolo mondo. Questo è il modo in cui si muove l'ignoranza. Mi costruisco un'immagine e faccio dei movimenti per evitare di contraddire quella immagine. Quanto avanti nel verso diciassette. Sia le cose non esistenti che le esistenti vengono afferrate come reali. come veramente esistenti in se stesse. Quindi andiamo al cinema. Il film ci piace oppure non ci piace. Come possiamo parlare di ciò che abbiamo visto. Lo prendiamo come reale. Potrebbe essere il film a trattare un dramma domestico o sembrare reale. Con personaggi riconoscibili nella vita di tutti i giorni. oppure potrebbe essere un film di fantascienza. Pure immaginazione. Eppure ne parliamo. L'hai visto quel film? Wow. 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 Non c'è niente. È fantasia. Però lo possiamo prendere per reale, per vera. Come Donald Duck. E' vero per i bambini. E' vero per i bambini. I cartoni animali sono veri per i bambini. Molti bambini, quando vedono i film di Walt Disney, per esempio, bambi, piangono. Sono tristi. Non c'è niente là. Non c'è niente là. Non c'era, non esiste un personaggio del genere. È mai morta la mamma di Bambi perché non c'è mai stato Bambi. La mamma di Bambi era soltanto il disegno di una penna. Cosa vuol dire non esistente? Il migliore esempio di non esistente è Dio. Dio ha detto. Siccome non abbiamo mai incontrato Dio, possiamo inventare all'infinito cose che ha detto Dio. Tutti rivendicano le guerre proprio perché Dio ha detto. Dio è un significatore vuoto. Non ha contenuti definibili. E' come la pelle di una salsiccia, un salame. Dio puoi aggiungere qualcosa dentro. Dio è l'accento di dolce, peper, o chili, come piacciono. Dio è l'accento del dolce, come piacciono. Qualcuno ha un Dio molto dolce, altri un Dio molto severo. Quindi, o cose esistenti come questo edificio, ad esempio, oppure qualcosa che è più chiaramente il prodotto della nostra immaginazione, entrambi questi tipi vengono considerati come realmente esistenti. Io credo nel football club di Milano. Io credo in Dio. Io credo in Donald Duck. La stessa struttura grammatica sosterrà qualunque tipo di situazione. E tutti questi sono modi in cui noi, con il nostro corpo, mettiamo il significato e il valore in qualcosa. È il modo in cui noi mettiamo valore e significato in qualunque cosa. Quindi, vincolati dalla confusione della auto-identificazione, Sperimentiamo un ser che si afferra. Mi piacciono le canzoni. Mi piacciono. Mi piacciono. Qualcosa sorge e il suono è piacevole per me. Nell'identificare un oggetto che mi piace. Questa forma nel mondo Allo stesso tempo mi sta formando, sta dando a me una forma. Colui che afferra E allo stesso tempo è afferrata da ciò che è afferrato. Per esempio, sto afferrando i miei occhiali. E' meraviglioso perché so dove sono. Ma che allo stesso tempo la mia mano è imprigionata dall'occhiale. Perché ci sono molte cose che non posso fare con la mano perché prendo gli occhiali. Quindi il potenziale viene formato, rientra dentro una forma Proprio nell'azione di prendere possesso di qualcosa nel mondo. Veniamo formati, veniamo modellati in base alle forme che noi stessi facciamo. Questo è l'inganno dell'innipotenza. Mi sento libero perché sto facendo qualcosa. Ma proprio in questa azione, in questo fare questa cosa qui Sono schiacciato dentro una particolare forma. Questo è veramente interessante. Che le nostre scelte, le scelte che facciamo Sembrano essere un atto di libertà Ma ci portano dentro una definizione. Ci vincolano in una forma particolare. Ci vincolano ad una forma particolare. Perché queste scelte hanno a che fare con un'attenzione selettiva. Quindi anziché essere un apprezzamento estetico aperto. Che permette la presenza di molti sapori presenti nel campo. Nel fatto di essere particolarmente interessati a questa cosa qui in particolare. Per il fatto di avere una particolare apprezzamento estetico. Una sensibilità raffinata. Io mi sto inevitabilmente anestetizzando ad altri aspetti. Come quello che accade in una sala chirurgica. Siamo in stato di incoscienza. Questo è importante e quello no. Quindi c'è un pregiudizio. Che rientra all'interno. Che rientra all'interno. Che rientra nella mia... C'è quindi un morire, una specie di morire. Quindi un attenebramento, un ottundamento, un suddimento. Che viene incorporato. Nel mio senso di auto-identificazione. Per poter essere questa persona. C'è molto che non posso essere. Che non sono. Per essere questo c'è molto che non sono. Il prezzo dell'essere questo, dell'essere me. è quello di essere meno di ciò che potrei essere. Se voglio quella fiducia, quella confidenza, quella sicurezza dell'essere me stesso. Tante cose che potevano essere possibili non sono state fatte. Mentre quando Berlusconi continuava a definirsi, a definire se stesso. Se pensate a tutti questi anni al potere. Con tutto quel denaro. E con i media tutta quella influenza. Eppure è stato raggiunto così poco. Perché lui era incastrato nel mantenere la sua immagine. E molti politici sono così. Ma in fondo i politici non sono altro che degli schermi nei quali ci vediamo, vediamo noi stessi. Il potenziale che abbiamo. È praticamente ristretto da noi stessi. Praticamente nel mantenimento di quell'immagine. Con queste nozioni di io e me sviluppate in questo flusso di coscienza. Siccome è una causa che sviluppa attrazione e avversione. Sorgono le attività del samsara. Delle afflizioni. Delle afflizioni. Delle cinque veleni. La stupidità dell'avversione e dell'attrazione. Dell'orgoglio e della gelosia. Da una causa. Di aver dimenticato la natura vuota dei fenomeni inclusi noi stessi. Sorgono molte altre cause. Molte molte forme di tutta questa attività nel samsara. Sin dal principio tutto ciò che appare è come un riflesso nello specchio. Quando questa base per il riflesso che è lo specchio non viene considerata. che viene dimenticato. Il riflesso diventa qualcosa di reale. Viene fragmentato. Prima di tutto tra il sé e l'altro. Poi in tutte le altre forme e apparenze. Sensazioni, ricordi, speranze. E tutta questa complessità crea delle forze che di continuo interagiscono tra di loro. ed è questa la base di tutta la nostra sofferenza. perché le nostre intenzioni vengono bloccate. Abbiamo speranze che non riusciamo a realizzare. Siamo delusi perché abbiamo fatto un appuntamento. Abbiamo nominato un appuntamento. Questo significa che abbiamo fatto un'idea di come si deve essere. Questo vale a dire che la sofferenza arriva la differenza tra il campo fenomenologico quello che si presenta direttamente in noi e le nostre idee sul mondo. Quindi abbiamo due cose. Un territorio, il territorio e la mappa. La mappa, la piantina, la cartina è la nostra mappa. La mia mappa. Ho passato tanto tempo a disegnare questa mappa. Questa mappa è molto accurata. Il problema è il mondo. Ecco la natura della sofferenza. Ma se io lasciassi andare la mappa e trovassi il mio posto nel mondo dovrei essere flessibile, attento, responsivo, umile. E chi vuole essere? Piuttosto preferirei essere un dittatore. la mia mappa. La mia mappa. La mia piantina. Ecco cosa vuol dire come si parla del costuto del self. perché è investito con la validità della mia stessa esistenza e della mia stessa esistenza. è sovrappotenziata. E quindi è molto difficile modificarlo. E quindi cominciamo a negare certe circostanze. per esempio tutte le informazioni che riguardano i cambiamenti climatici. Per tanto tempo alcune persone hanno detto un problema di quelli di sinistra. Un problema di quelli di sinistra. Un problema di quelli di sinistra. Un problema di vegetariano. Una falsa scienza. Perché la gente vuole avere la vita che ha. per esempio in America vogliono benzina, petrolio a un prezzo economico. Un bel motore in macchina. Perché no? Perché non dovrei avere questo? è una causa che ha delle conseguenze. No, è la mia macchina. La mia vita, la mia macchina. Voglio essere libero di scegliere come vivere. Chi sei tu per dire a me come vivere? Meno male che in America io ho una pistola e ti posso uccidere. Perché se i fatti sono veri ed è vero il cambiamento climatico tutte quelle immagini che ci siamo costruiti riguardo al nostro stile di vita e che consideriamo reali perché rientrano nel nostro senso del sé e allora queste diventano sbagliate. E vuol dire che bisogna portare dei cambiamenti grossi. però se cambio quelle idee devo cambiare me stesso. E invece voglio mantenere la continuità di me stesso. Quindi preferisco meglio ignorare le informazioni. e questo lo facciamo a livello individuale. Moriremo? Davvero? E poi mi sento così in buona salute oggi. Accadono cose difficili nella vita. Sì, ci sono poveri, ci sono cose che accadono loro, tremende, però... non crediamo di essere parte del mondo. La gente ha infarti, cancri. Qualcosa accadrà anche a noi. Ma perché? Sono una brava persona. mia madre mi ama, ma perché dovrei avere il cancro? È molto difficile entrare in contatto con come sono le cose realmente. Perché tutto questo contraddice le fantasie che abbiamo nella nostra mente. Ecco cosa dice qui in questo testo. Quando ignoriamo questo potenziale aperto della mente e la natura inafferrabile dell'esperienza quando ignoriamo questo possiamo costruire qualunque tipo di sistema di convinzioni. Ma, come dice nella Bibbia, non costruite la vostra casa sulla sabbia. Nel Samsara però ogni casa è costruita sulla sabbia. Qual è il fondamento sicuro e stabile? È la vacuità. È troppo, è troppo. È troppo, è troppo in quanto fa. È troppo in che. È troppo in questo modo. È tutto il momento che volevo dire colore? Sì, sì. È troppo in quello che è solo. È troppo in questo momento. 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 È tempo che ha lasciato il video. Grazie a tutti.